Noi innanzitutto andiamo incontro a una precisa richiesta dei tanti, tantissimi che credono nella nuova Pescara che è quello di avere un contatto diretto con l'associazione. Voi come sapete noi siamo un'associazione che raggruppa tantissime altre associazioni quindi adesso ci apriamo tranquillamente alla cittadinanza. Abbiamo previsto nell'ambito del sito dove spieghiamo tante cose, anche la legge, dove spieghiamo i passaggi che devono essere fatti e ahimè quelli che non sono stati ancora fatti. Abbiamo lasciato la possibilità di una adesione che ovviamente è gratuita, assolutamente gratuita. Devo dire che la nostra associazione ha un unico obiettivo che è quello dell'attuazione del referendum che ha sancito l'unione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ci sono dei ritardi. La prima data prevista dalla legge regionale è il 1 gennaio 2022. Mi dispiace dirlo ma credo che non sarà possibile rispettare questa scadenza. La seconda data è 1 gennaio 2024 e quindi saremmo a dieci anni dal referendum. Dovessero esserci ulteriori ritardi arriverà il commissario. Ma penso che a quel punto sarà una sconfitta dura, bruttissima della politica locale e anche della politica regionale. Quindi io non voglio pensare che si possa arrivare a una cosa estrema e non voglio neppure pensare che si voglia deludere la cittadinanza. Il nostro obiettivo è quello di arrivare all'attuazione del referendum. Abbiamo ottenuto la legge regionale e proseguiamo. Devo dire che negli ultimi tempi la Commissione Statuto sta lavorando, secondo noi anche bene. I ritardi non saranno colmabili, però applaudiamo a questa accelerazione. Cosa sono da imputare questi ritardi? Sotto gli occhi il fatto che ci siano state delle resistenze non giustificabili. La legge ha anche una sua complessità. Poi unire tre comuni significa mettere in moto un processo ampio, complesso e quindi sicuramente ci vuole del tempo. Si poteva partire con una maggiore determinazione. Alcuni mesi sono stati persi dietro uno stucchevole e retrodatato pensiero di arrivare addirittura a inficiare il referendum. Questa fase mi sembra chiusa, credo definitivamente, e quindi pensiamo a lavorare.